Credo che una fondazione che apre le sue porte alle nuove generazioni dimostri una grande intelligenza. Da una parte perché avere all'interno comunque una persona di un'età differente del resto dei consiglieri è importante perché ha una visione differente effettivamente della realtà cittadina e dall'altra parte perché credo che ricevere così tanti progetti così belli di ragazzi giovani che hanno voglia di fare e prenderli in così seria considerazione sia un segnale molto molto bello. L'incontro poi tra fondazione e una realtà aziendale, io sono rappresentante di un'azienda all'interno del consiglio, è uno stimolo per una lettura da una prospettiva differente del territorio. L'unire le idee che può avere una fondazione, la spinta creativa con la concretezza e la pragmaticità di una realtà aziendale può portare dei risultati io credo molto importanti. Le aziende sono una realtà molto importante per la fondazione. Andare ad unire gli intenti di sviluppo culturale e sociale del territorio è sicuramente una cosa molto importante e interessante anche per le aziende e andare ad unire queste due entità può solo portare dei benefici al nostro territorio mantovano.